Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda è la più semplice o la più complessa, dipende da come la vedi. Chi è Riccardo e chi è Richi Ferranti? Allora, è la stessa persona, però con il tentativo di dare un nome un po' più, un pseudonimo, un nome d'arte. Poi Richi mi ha sempre chiamato così e quindi ho anche preso un po' la palla al balzo, nel senso che Riccardo in pochi mi hanno chiamato col nome lungo, intero. E quindi da Richi, poi Richi suonava anche abbastanza americano come cosa e allora ho detto, ma sì, dai, utilizziamolo per l'aspetto un po' più artistico, tutto lì. Di base ho la stessa persona, però magari Richi è quello un po' più creativo, Riccardo è quello un po' più serio, diciamo così, o quello un po' più normale. Normale, anche se normale è una parola che vuol dire tutto e niente, però si cerca sempre di trovare uno pseudonimo o no, almeno. Di solito i nomi d'arte servono un po' a quello. Nel mio caso non è altro che così, il nome con cui tutti mi hanno sempre chiamato e quindi l'ho tenuto come nome pseudonimo artistico, ecco. Allora, parliamo andando del nuovo singolo. È quasi sera. Come nasce questo singolo? Come tratte ispirazioni? Allora, devo dire che stavo suonando col piano, stavo provando degli accordi che erano un po' malinconici e mi si sono, diciamo, visualizzate delle immagini, delle immagini che erano quelle della mia infanzia in campagna e da lì ho sentito l'esigenza di creare un testo che potesse, diciamo, ripercorrere quelle immagini. È nato abbastanza naturale. Poi, invece, il lavoro di smussare un po' tutto, quello, vabbè, ci è voluto un po' più di tempo, però diciamo che la prima intuizione, che era quella di legarsi alle immagini che vedevo, mi ha permesso di scrivere il testo abbastanza velocemente, ecco. È nato così, al piano. Infatti poi la chitarra in questo brano c'è poco, c'è qualche arpeggio di supporto al piano, però è nata proprio col pianoforte, con accordi abbastanza semplici, ma messi giù in maniera tale che erano un po' malinconici, ecco. Da lì mi è nata tutta questa cosa qui, dei ricordi, eccetera. Invece la copertina del zingolo, la vediamo con questo sfondo viola, però che si attenua verso il tuo viso. Allora, la storia delle copertine è interessante, perché io avevo già i brani pronti, diciamo, e dovevo solo poi riregistrarli, però all'arrangiamento c'era quasi di tutti. E ho chiamato questo fotografo, che è un mio amico con cui collaboro da diversi anni, che si chiama Marco Cattaneo, e gli ho un po' fatto sentire i brani, e a lui è venuta questa idea un po' pop, cioè pop art, cioè di fare delle foto molto in stile pop art, quindi molto colorate, con colori vivaci. Quando però abbiamo fatto tutte queste foto, non pensavamo ai brani. Diciamo che i brani sono stati ascoltati in generale, e poi lui si è lanciato, mi diceva, metti qui, metti là, metteva dei filtri dietro, delle robe, dei cartoni colorati. E quindi mi sono trovato ad avere tutta una serie di foto che successivamente abbiamo dovuto accostare ai vari brani. Quando poi ho visto questa foto, mancava, adesso mancano ancora due singoli, quando è uscito quasi sera, doveva uscire quasi sera, bisognava scegliere la copertina, quella lì mi sembrava la più indicata, escludendo quelle che avevamo già usato, c'era questo sfondo che mi richiamava un po', da parte ho un tramonto, ho comunque l'ombra della sera, tutte queste cose qui, no? E quindi era quella che ci sembrava più adatta. Questa copertina tende un po' al blu-viola, e poi ce n'è un'altra invece che c'è l'arancione, che viene usata magari dall'ufficio stampa, ecco. E quindi è stato un lavoro inverso. Adesso non so se si è capito il discorso, non siamo partiti dalla canzone, ma siamo partiti dalle foto con l'idea delle canzoni, e con questa idea pop, pop art, no? E da lì poi abbiamo selezionato quello che poteva essere più adatto, ecco. Possiamo dire che in questo caso, però, tranne questa canzone, forse tu hai più un'anima, più diciamo più country rock che un classico italiano melodico. Sì, devo dire di sì. È così, perché comunque anche nell'italiano le cose che... Cioè, mi piacciono molti autori. Parto sicuramente da tutto quello che è il panorama dei cantautori, quindi, vabbè, non sto a citare i vari De Gregori, i Guccini, eccetera, ok. Però comunque, ad esempio, Bennato è uno di quelli che ha sempre cercato di utilizzare nelle sue canzoni una sonorità molto americana, no? Comunque molto folk. Un po' tutti i cantautori l'hanno sempre fatto. E quindi sono più legato a quell'aspetto lì, a quell'aspetto del cantautore che però utilizza delle chitarre molto folk, molto country. Cioè, in Guccini c'è un sacco di country, in De Gregoria anche, in tutto quel mondo, no? Poi, invece, se andiamo nell'aspetto un po' più moderno, vabbè, il rock di Liga Bue, piuttosto che queste cose qua, mi sono sempre piaciute. Però, piacendomi molto, l'ambiente acustico sono più legato al folk americano, ecco. Quello è vero. Sì, più che alla melodia italiana, che comunque mi piace, anche Baglioni ha scritto dei brani bellissimi. Però magari come arrangiamento io non mi ci vedo molto, no? Cioè, non mi ci trovo come tipo di arrangiamento, anche se è un modo più melodico, per dire. Adesso ti faccio dei nomi storici, ecco. Perché comunque sono più legato a quelle cose lì, nell'italiano, se devo essere sincero, ecco. Quel mondo lì. A livello artistico americano, nel caso in quel genere, chi è che c'è un artista che comunque vada, ti ha dato ispirazione, comunque ti ha fatto sentire quella sensazione che proprio ti ha dato anche quella per poter poi effettivamente entrare in quel mondo? Eh, vabbè, c'è Bob Dylan, Bob Springsteen, insomma, questi che sono i... Johnny Cash, insomma, tutto quello che fa parte di quel mondo mi ha influenzato, soprattutto a livello di arrangiamenti, sonorità. Poi, invece, specificamente per la chitarra, vabbè, c'è Jimmy Hendrix, tutto il mondo dell'hard rock, delle zeppel. È un mondo... è il mondo del classic rock. Io ho iniziato a suonare la chitarra affascinato dagli arpeggi di Baby I'm Gonna Leave You o dei Led Zeppelin piuttosto che un semplice Blown in the Wind o John Byers, ad esempio. Io ho sentito, non so, Diamond and Rust e dicevano devo fare quella roba lì, devo imparare quel tipo di finger picking e quindi mi sono messo a studiare da ragazzino con quegli obiettivi e anche se poi la chitarra elettrica mi faceva impassire uguale. Però ho sempre avuto questi due mondi, l'acustico e l'elettrico che uno non poteva vivere senza l'altro. forse la predilizione per l'acustico nell'ascolto l'ho sempre comunque avuto. Cioè dei Led Zeppelin magari mi soffermavo di più sulle parti acustiche nonostante apprezzassi tutto il resto. Quindi ti dico nell'ascolto e poi da suonare mi casavano molto gli ACDC sì anche però ecco è un mondo molto diverso ancora. Però ad ascoltare mi sento più intimo nell'ascolto difficilmente magari ascolto tutto un disco di Deep Purple dall'inizio alla fine capisci? Nonostante gli adori però dopo due o tre pezzi devo ascoltare qualcosa di acustico. L'emozione che provi quando sali sul palco di Tissi Tempi salire sul palco è quasi un miraggio però l'emozione che provi quando davanti hai gente che comunque inizialmente ha un silenzio che poi in realtà a volte quel silenzio parla perché ti esprime quelle emozioni che ancora tu stai cercando quale perché cantano si emozionano tu che sensazioni provi quando vedi queste reazioni? Insomma ogni volta è una sfida diversa è chiaro che poi quel tempo si impara a gestire un po' le emozioni che però devono esserci perché se salissi anche su un palco a suonare anche per cinque persone ma non provassi nulla probabilmente sarebbe un brutto segnale cioè dovrei ragionare un attimo su perché non provo più emozioni invece fortunatamente sono sempre emozionato fortunatamente riesco a controllare un po' di più l'emozione e anche a cogliere quello che dici di tu magari i silenzi piuttosto che magari non so i momenti di euforia estremi cioè diciamo che cerco però di non farmi coinvolgere troppo perché mi mi distoglie molto dalla concentrazione ecco se ha una luce ti dico questo se io suono ad esempio davanti a a 30 persone no in un pub la cosa la trovo più complicata che in un teatro con magari 200 persone e con i fari puntati dove non vedo nessuno perché di fatto sento l'energia ma non vedo nessuno e io lì ci sto meglio perché non mi distrae nessuno invece in un pub è più difficile gestire per me poi ognuno va al suo modo però e più gente c'è e più per me diventa facile cioè perché è come se non ci fosse nessuno di fatto cioè una massa di mille persone io non posso capire cosa pensa se invece incrocio lo sguardo di uno io capisco cosa pensa magari mi distoglie perché magari intuisco che magari gli ha fatto schifo la canzone che ho fatto e vado nei loop e non va bene quindi preferisco non incrociare nessuno sguardo non so se si è capito quello che volevo dire ecco hai fatto tante collaborazioni quella è quella che alla fine ti ha dato quell'emozione in più che dire mi piacerebbe ovunque sempre ovunque poterla rifare o almeno vivere quell'emozione successiva ma ogni anche qui è difficile perché ogni ogni situazione ha dei risvolti positivi belli e unici diventa quindi difficile poter fare fare una scelta ci sono sicuramente una cosa che mi piacerebbe poter rifare magari risuonare magari in situazioni diverse con Angel Forrest che è una cantante canadese che ha vinto diversi Grammy Awards nel blues ed è pazzesca io ho avuto l'onore di suonare con lei a 30 centimetri di distanza e capire la potenza vocale cioè io mi emozionavo era una roba incredibile quindi sicuramente quella sensazione lì mi piacerebbe poterla rivivere in un'altra sensazione magari in Canada o in America chi lo sa perché è stata proprio una cosa a livello musicale impressionante perché aveva proprio una potenza di voce che non riuscivo a spiegar e poi vabbè era proprio molto molto blues ha una voce molto simile adesso non mi viene il nome vabbè comunque ha quella voce graffiata proprio tipica del blues potente insomma Angel Forest se non la conoscete andatela andatela a sentire la trovate su Spotify è una forte cioè è una che in Canada è molto conosciuta molto conosciuta poi vabbè ogni cosa adesso vedi ho citato lei ma tutti gli altri non è che sono da meno comunque anche tutte le varie esperienze che ho avuto con gli animali rari con Marco Rancati che è un artista pazzesco è uno che ha fatto Sanremo ma ognuno mi ha dato qualcosa sicuramente quindi ogni ogni collaborazione è stata è stata costruttiva e le rifarei tutte sì 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 la domanda più banale che potrebbe essere fatta te la faccio io che cosa è la Musia per te? è un è proprio è il mio modo di vivere di esprimermi per me è proprio è un qualcosa che è connaturato con la mia essenza cioè io mi sveglio e prendo in mano la chitarra o il piano o un altro strumento o il band insomma c'ho sempre in mano qualcosa la mattina alla sera perché o lavoro in studio o insegno a scuola comunque chitarra o faccio musica d'insieme cioè o suono quindi l'unica cosa che mi dispiace è che ho poco tempo per ascoltare musica di altri no? e quindi l'unico momento in cui riesco a farlo purtroppo è in macchina e mi piacerebbe di più avere più tempo per ascoltare altri ecco e quindi sì 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 no dimmi sì non so se ho risposto alla domanda o meno e comunque la musica ormai è parte è la mia vita ecco vivo con la musica tutto il giorno un'ultima una delle ultime curiosità quando si sale sul palco prende comunque quando inizia a suonare dal vivo possiamo dire la musica in realtà parti perché il brano ormai è quello però poi durante il palco secondo di come dove ti trovi il boettino si evolve c'è una vita sua la canzone poi alla fine hai dei cambiamenti hai delle correzioni durante quel live che in realtà poi ti accorgi e dici l'ho suonata in modo diverso ho suonato quella ma in modo diverso è proprio così come hai detto cioè hai detto hai fatto un'osservazione secondo me molto molto intelligente che non è banale per niente perché secondo me non tutti riescono a cogliere questa cosa perché ogni volta che suoni si crea un'interazione con la gente col posto con le luci con con i problemi anche tecnici che si possono con mille situazioni e ogni volta la canzone cambia è la stessa ma cambia nel bene e nel male nel bene e nel male sicuramente questo si rilaccia un po' al discorso che facevo prima ovvero quando mi trovo a suonare davanti a 20 30 100 1000 persone le cose cambiano perché si creano dei rapporti si creano delle energie io penso di le sento molto quelle robe lì per quello che preferisco non vedere in faccia nessuno perché perché sennò magari sbaglio molte cose perché mi faccio influenzare da delle espressioni e allora mi perdo via e allora invece chiudo gli occhi devo concentrarmi preferisco sentire l'energia senza senza andare a vedere le persone singolarmente e quindi mi rallaccio al discorso di prima che se ho le luci in faccia il classico occhio di bue bianco io sono più contento perché mi dà un mondo mi crea un mondo più intimo più soffuso e riesco più a entrare nella canzone e a sentire di riflesso quello che succede dalla gente cioè per me ad esempio le luci sono fondamentali a volte cioè suono in pub che hanno veramente delle luci bruttissime e allora inizio a dire ma spegnete qua spegnete cioè inizio a dire spegnere le luci perché non si crea l'atmosfera già non puoi suonare è come suonare non so di pomeriggio cioè sì lo puoi fare però non è come suonare di sera cioè è un'energia diversa no adesso io la vedo la vedo così ci vuole l'atmosfera giusta ogni volta ecco sono cose che devono devono avvenire secondo me con una certa attenzione al costo di sì sì no no dimmi al costo di no al costo di risultare un po' a rompiballe no perché magari dico no ma se me le luci non va bene e allora magari dico ma questo io rompe le palle perché cioè invece ci vuole l'atmosfera ecco è importante e allora l'ultima cosa quali sono gli obiettivi adesso i prossimi lavori il prossimo obiettivo è quello di fare un lp cd lp venile visto che allora allora adesso è uscito è quasi sera poi uscirà a gennaio i primi di gennaio adesso non mi ricordo più la data precisa l'ultimo l'ultimo singolo l'ultimo singolo della di quello che sarà un cd penso perché quello è l'etichetta che che poi lo decide però comunque sarà l'ultimo brano e questo brano è già stato fatto il master quindi praticamente ho finito bisognava decidere solamente la copertina e l'impaginazione le foto dell'album eccetera quindi penso che poi a dicembre era dedicato in parte per il confezionamento del cd ecco che racchiude i singoli usciti diciamo precedentemente più quest'ultimo che che uscirà a gennaio il il 7 esce mi sembra il 7 gennaio sì io vi ringrazio per questa video intervista e saluto saluto te tutti i tuoi ascoltatori i vostri ascoltatori vi ringrazio perché per me è stata una bella opportunità una bella possibilità un saluto a tutti seguitemi sui vari social quindi Ricky Ferranti studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di Pietro di Pietro di Pietro di Pietro di Pietro Grazie per la visione!